benvenuti e anzi bentornati nella collector's cave in questo posto si parla di libri si parla dei loro contenuti e delle loro storie se siete interessati ad altri video iscrivetevi al canale ma soprattutto commentate sotto i video perché quello che mi interessa e quello che voi pensate oggi parliamo quindi della bibbia del libro della bibbia ma dopo la sigla fondo legame tra la bibbia e il libro lo troviamo subito proprio nel termine bibbia che ha origine nella lingua greca in greco antico infatti biblion significa libro la parola bibbia dunque trae origine dal plurale del termine greco e significa letteralmente i libri ma in origine prima dell'invenzione della stampa e prima anche che il libro assumesse la forma e l'aspetto a cui noi siamo abituati la bibbia venne scritta sui rotoli antichissimi manoscritti eseguiti su papiro o pergamena che appunto venivano arrotolati e srotolati con l'aiuto di un piccolo cilindro di legno o avoriole alle cui estremità erano protette da pomelli di argento oro o avorio i rotoli venivano preservati dalle intemperie dagli insetti dei parassiti sottoponendoli a bagni di olio di cedro ed è per questo motivo che i manoscritti biblici più antichi del mondo che oggi noi possiamo studiare vengono chiamati i rotoli del mar morto la regione del cumran un luogo di rovine grotte in un affacciato sul mare della cisgiordania ci ha restituito nel 1947 un tesoro inestimabile conservato per duemila anni di reperti scritti che rappresentano l'anello di congiunzione tra il passato e del presente biblico questi rotoli vennero scoperti per caso da dei beduini in giarre d'argilla sepolte nella sabbia e poi venduti come antichità locali nei mercati notati da uno che ha avviato poi una ricerca che ha portato alla più straordinaria avventura archeologica del ventesimo secolo ma se i rotoli del mar morto rappresentano la prima testimonianza scritta della bibbia osservandoli notiamo anche del motivo per cui dopo i rotoli furono i codici i codex a sostituire un supporto che risultava poco pratico immaginate infatti consultare arrotolando e lunghi fogli di papiro i codici non erano più fatti con il papiro ma con la pergamena e la differenza sostanziale che potrebbe sembrare banale scontata ma non lo è e che mentre il papiro piegandosi si spezza la pergamena no ecco quindi che le pagine di pergamena potevano essere piegate formando dei fascicoli e questi potevano essere legati tra di loro e custoditi all'interno di legature o copertine insomma prendendo quella forma che noi oggi conosciamo con il termine libro e il codice biblico più antico di cui noi siamo a conoscenza è il codex sassun la più antica bibbia ebraica venduta tra l'altro poco tempo fa in un'asta di sotheby's a new york per la cifra monstre di 38 milioni di dollari quasi 400 foglie di pergamena e il testo che ha preservato la scrittura della bibbia ebraica come la conosciamo noi oggi è prezioso perché ci aiuta a comprendere come il testo biblico sia stato scritto e poi trasmesso nella forma che coincide con quello letto e studiato in tutto il mondo fino ad oggi questo testo è noto come masoretico i masoreti erano scribi della palestina vissuti anche a babilonia tra l'altro che dal sesto al decimo secolo circa hanno sviluppato un sistema di scrittura del testo ebraico fatto di punti e accenti in grado di garantire che la parola divina fosse letta e trasmessa in modo uniforme e corretto nel corso dei secoli i codici hanno poi rappresentato il mezzo fondamentale per la trasmissione delle sacre scritture ma fu con la nascita della stampa che il testo biblico entra nella sua epoca d'oro il primo libro stampato al mondo a ma gonza nel 1455 appunto la bibbia di gutenberg ne vennero stampati circa 150 esemplari in carta e 30 35 esemplari in pergamena di questa tiratura originaria oggi noi conserviamo solo 49 esemplari circa e soltanto la copia conservata ad oxford è completa di tutte le carte comprese quelle bianche la bibbia è stata realizzata pensate sulla base manoscritta della traduzione latina di san girolamo ovvero la vulgata 1286 pagine divise in due volumi alti circa 40 centimetri 42 righe per pagina un'opera per il tempo davvero colossale ma perché gutenberg stampò come primo libro del mondo una bibbia è molto semplice all'epoca non esisteva nessuna altra opera con le potenzialità di mercato di una bibbia e lo sponsor di gutenberg il mercante joan fust che sborsò 1600 fiorini una cifra enorme per quell'epoca per finanziare il progetto non avrebbe accettato sicuramente un fallimento ma nonostante ciò gutenberg non rientrò mai delle spese ma la sua invenzione ha aperto la strada ovviamente alla produzione di libri su larga scala ha rivoluzionato la storia del libro la diffusione della vulgata fu subito travolgente già nel 1464 ne usciva una nuova edizione sempre a magonza mentre la prima edizione della bibbia italiana è del 1472 presto cominciarono ad essere stampate le prime bibbie commentate per facilitare la loro interpretazione come quella ad esempio di norimberga del 1478 poi arrivarono quelle pocket quelle piccoline quindi in formati più agevoli dato che le prime erano letteralmente enormi a basilea nel 1521 roben stampa quindi la prima edizione è cosiddetta in ottavo più o meno il formato dell'edizione a cui siamo abituati noi oggi il rinascimento invece è stata l'epoca in cui sono state prodotte le più belle bibbie illustrate contenenti opere d'arte di famosi artisti come michelangelo raffaello e il durer queste bibbie non solo trasmettevano il testo sacro ma anche l'estetica e la spiritualità dell'epoca da lì in poi sono state stampate migliaia forse milioni di edizioni fino ad oggi diventando uno strumento formidabile in mano della chiesa ma così potente che anche lei ad un certo punto ne ebbe paura in italia infatti la chiesa proibì la lettura ed il possesso di bibbie tradotte in lingua volgare per quale motivo perché il volgare rendeva la lettura più comprensibile gli insegnamenti venivano quindi direttamente recepiti dai fedeli senza l'intermediazione dei prelati e a metà del cinquecento l'indice dei libri proibiti infatti elencava 45 edizioni proibite della bibbia ma la potenza del libro sia nella sua forma che nel suo contenuto non si fermò mai e pochi sanno che nel luglio del 1969 i primi uomini che toccarono il suolo del nostro satellite naturale la luna appena il modulo lunare raggiunse il vascello spaziale i tre eroi di nuovo riuniti dopo la missione aprirono la bibbia di fronte ad un miliardo circa di tre spettatori dopo la loro prodezza volevano attribuire a dio la gloria che gli spettava e quindi l'essero il salmo ottavo quando io considero i tuoi cieli opera delle tue dita la luna e le stelle che tu hai disposte che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura